Claudia deve riportare Claudia all'ufficio sorveglianti Ancora Mi dispiace È un facciolo, è preso la testa dei faccioli Prima le scarpe sulla testa Poi la partecipazione è non a quella bella campana Sulla testa, poi i libri sulla campana Adesso la testa sulle scarpe Signorina d'orecchi, io l'avverto Lei ha la campana fuori Stia ferma Appoggi qua la campana Allora adesso Sesso, secondo me dovete scopere Punto, punto, punto Signora Dorelfi, please come here Fai una scopata Puoi accomodarti fuori Ok Siccome le piacciono i suoni Io ho bisogno di una stufa E lei sta lì a mettere a posto questa stufa E non è a posto tutto Ma che panni che è questo Vorrei cominciare a scopare L'adorelfi Excellent Raph mi dà due noccioline? No Dammi una patatina Almeno andiamo E che ti costa Andiamo avanti Vado a posare quel cocco Questa di chi è? E' mia Benissimo Quindi lei, signora Dorelfi E' espulsa dal collegio Che cazzo ho fatto? Che cosa? Che cosa? Che cazzo ho fatto?